buongiorno tartarughine e non siamo a un aggiornamento velocissimo vi presento i tre gemelli che sono cresciuti questa è spring adesso le dico di cambiare abito e poi di andare a letto spring cambiati di abito così vediamo come sei con l'abito quotidiano è in effetti è un po' freschino per cui mettiti questo invernale lei è a posto è invernale e vale è qui anche lui col suo abito invernale lui ha studia il roditore così fa i compiti nel frattempo lei ha la passione per la creatività e per il computer la nonna è qui ogni due per tre e spring adesso se ne va a nanna tutti e tre vanno a nanna perché è tardissimo poi vi farò vedere nel cas allora lui è cresciuto così c'ha i dentini davanti c'ha la finestrella mi è cresciuto con la finestrella a me piace molto per cui bravo hai fatto i compiti e loro due eccole qui le avete viste spring e val poi altra novità lei ha preso un altro cavallo perché le manca regina e dov'è jenny con regina jenny si è trasferita dai nonni a henford on bagley sapete che lei sogna di fare la veterinaria perché ama tanto gli animali e i nonni le hanno detto che lei è la principale erede della tenuta di campagna ovviamente non hanno cioè hanno un sacco di nipoti dovendone scegliere uno hanno scelto jenny perché l'hanno vista appassionatissima di di animali ecco questo è eros io ho fatto in modo che winter suggerisse a perla di socializzare adesso la mandiamo cia fame è tardissimo però almeno i bambini o luci automatiche tutte le luci perché non si spengono qua a perché lui ancora sveglio ecco qui viene considerata una luci a bubalus ciao un bubalus fame ok attenzione soddisfacente attività massa e va bene poi e niente lei ancora è arrivata a sette nello sci a otto nello snowboard e deve finire la chiama qua fai dormire anche eros allora chiedi al cavallo di venire qui lui si chiama eros e perché insomma ragazzi l'amore è amore si innamorerà di perla non vogliamo un altro puledro è però insomma quindi ecco questi sono gli aggiornamenti poi se vi fa piacere lasciatemelo scritto nei commenti vi mostro anche il cas dei bambini adesso andiamo da jenny che è ormai vive dai nonni eccola qui jenny è diventata adolescente e questa è il suo nuovo aspetto è vestita calda perché siamo in autunno qua non nevica però lei felice che non nevichi perché lei è cresciuta in mezzo alla neve non ne poteva più della neve qui c'è la sua cameretta con eventuali ospiti fratelli se vogliono venire insomma c'è sempre la sua la cameretta di quando la sua mamma era piccolina però lei molto attaccata ai nonni e molto attaccata a tutti gli animali e la sua aspirazione è custode di campagna e appena possiamo adesso comprare un'altra mucca magari la compreremo le ho lasciato la casa così com'era anche coi giochi per i bambini perché se vengono i suoi tre fratelli sono benvenuti lei li inviterà perché comunque si ha fatto una scelta drastica di trasferirsi dai nonni che lei adora la campagna adora enfordon begli adora gli animali e si è portata dietro regina che già aveva dov'è regina fra l'altro eccola qui è andata a trovare polli lei si occupa di ormai aiuta i nonni no 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 pulisci il pollaio guarda lì altre scelte pulisci sto pollaio e anche tu poi vai a letto mamma mia sono le cinque e c'ha fame poi va bene non le mancherà la cucina del papà perché anche la nonna sa cucinare molto bene la facciamo mangiare apri e vediamo cosa può mangiare ci sono un sacco di cose buonissime prendi una porzione di queste sono tutti svegli a quest'ora eh sì va bene comunque eccola qua compleanno di chi è il compleanno quando mai c'è un compleanno è già il compleanno di chi è il compleanno non lo so di chi sia il compleanno comunque non è il compleanno di nessuno allora è andata a pulire il ha pulito il poi ah no la mucca sta dormendo pensavo fosse diventata una statua di cespuglio benissimo e niente io vi lascio qui vi ho aggiornato tornerò più avanti magari quando esce l'espansione ho deciso che siccome spring è ancora piccola non mi può diventare giovane adulta da qui al 25 luglio ho deciso che comincerò una mini serie con la nuova espansione che come vi ho già detto non mi fa impazzire la trovo abbastanza superflua ma c'è ci sarà qualcuno a cui piace saranno in tanti quelli a cui piace per cui chi sono io per dirne male mi è sembrato dalla ieri dalla live stream che fosse un po povero il cas ma probabilmente non ci hanno fatto vedere tutto quindi come sempre dico aspetto che esca l'espansione e vedrò di giudicarla quando è fuori l'espansione e l'avrò comprata raccogli tutto raccogli tutto nuovo tratto dopo di biblioteca sì perché no gianni deve studiare per diventare veterinaria per cui quindi ragazzi il 25 appena esce l'espansione nuova inizierò una mini serie su quella tematica quindi creerò una un personaggio creerò un sim che vivrà lì a ciudad a morbo quella città lì messicana e che svilupperemo un po tutte le le dinamiche di questa nuova espansione vedremo se poi mi ricrederò oppure no vi saluto ciao a tutti ciao ciao